Allora questi sono i pezzi di grandire che sono caduti in località Cuma verso le 11 di stamattina. Ma sono diventate la metà per portarli qui a Ponte di Roce? Eh certo, immaginate un po' quanto erano. E pesano eh. Una di queste sta su 250 grammi, però dal cielo arrivano 4 kg, no? Abbiamo visto decine di parabrezzi rotti su Facebook che arrivano a fotografia. Tutti quanti a scopare il suo vetro. Qualcuno l'ha avuto in testa o qualcuno l'ha avuto in testa? Fortunatamente pare di no, qualche ambulanza l'ho vista arrivare po' chi sa. Incredibile.